E anche oggi sono in giro di concessionaria in concessionaria con la mia automobile. Ho qualche minuto a disposizione e come sempre mi rendo conto guardando la mia automobile, che per me è il mio ufficio viaggiante, che è veramente lurida, è veramente sporca, piena di polvere, un po' il cane, un po' il bambino, un po' la gita fuori porta, insomma è ora di fare un ottimo lavaggio della mia auto. E mi trovo in via Race Romuli 215, mi hanno detto che ha aperto un nuovo autolavaggio. E allora venite con me e testiamo il loro ottimo servizio. Da New Max Autolavaggio lavi la tua automobile a partire da soltanto 6 euro per un lavaggio veramente completo. Da New Max la tua automobile viene curata nei minimi particolari, 5 persone esperte per pulire al meglio la vostra automobile. La pulizia dei cristalli, le plastiche e le battute, l'aspirazione dei sedili, pulizia mochette e tappetini, gomme e cerchi e Max dà il controllo finale. In via Race Romuli 215 a Torino c'è il New Max Autolavaggio, la tua auto lavata pulita in soli 5 minuti. Hai comprato un'automobile d'occasione? Vuoi sanificarla? Nessun problema. Qui, presso l'autolavaggio New Max, è possibile sanificare completamente la tua automobile. Igenizzazione dell'abitacolo, lavaggio mochette e sedili con qualsiasi tipologia di tessuto, lucidatura, rinnovo paraurti a partire da soltanto 50 euro. Qui da New Max, la tua automobile lavata, pulita e curata nei minimi dettagli, a partire da soltanto 6 euro. Da New Max Autolavaggio, lavi la tua automobile a partire da soltanto 6 euro per un lavaggio veramente completo. Da New Max, la tua automobile viene curata nei minimi particolari, 5 persone esperte per pulire al meglio la vostra automobile. La pulizia dei cristalli, le plastiche e le battute, l'aspirazione dei sedili, pulizia mochette e tappetini, gomme e cerchi e Max dà il controllo finale. In via Race Romuli 215 a Torino c'è il New Max Autolavaggio, la tua auto lavata pulita in soli 5 minuti. In via Race Romuli 215 a Torino c'è il New Max Autolavaggio, la tua automobile a partire da soltanto 6 euro. My dream is to fly all day 24% so high. My dream is to fly over the river, so high My dream is to fly over the river, so high I try to fly a wide, so high, direction sky I try to fly a wide, so high Ecco Daniel, la tua macchina è pronta, vai Grazie Max, ma è incredibile, in soli 5 minuti mi hanno lavato la macchina dentro e fuori È come nuova, incredibile, grazie Max Ciao Wow, tutto pulito, e questa? Ma è incredibile Mi hanno regalato anche una rosa per mia moglie Tutto questo in via Race Romoli 215 a Torino Presso New Max Autolavaggio Io l'ho provato, provatelo anche voi Hai comprato un'automobile d'occasione? Vuoi sanificarla? Nessun problema Qui, presso l'autolavaggio New Max, è possibile sanificare completamente la tua automobile Igenizzazione dell'abitacolo, lavaggio mochette e sedili con qualsiasi tipologia di tessuto Lucidatura, rinnovo paraurti a partire da soltanto 50 euro Qui da New Max, la tua automobile lavata, pulita e curata nei minimi dettagli A partire da soltanto 6 euro Grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille Grazie mille, grazie mille, grazie mille